Buu! Staventata. Bentornati italiani all'ultimo episodio. Siamo arrivati alla Sardegna, terra del Malloreddo, Porceddo, Seadas e qui si dice pure fuire da su fumo e ruere in su fuoco. Vabbè, non l'hanno capita. Praticamente voleva dire fuggire dal fumo e correre nel fuoco come dalla padella nella brace. La brace doveva finire il Porceddu, piatto tipico della Sardegna. Ti piace il Porceddu a te? Non ti piace il maiale? Il termine del nostro viaggio è la Sicilia. Eccola qua, è piccolina ma è molto più grande la Sicilia. La terra del sole, la terra dei fighitindi, della parmigiana di melanzana e della cassata, la terra in cui si dice la femmina fa la casa e la femmina la sfascia. Hai capito? Sai che vuol dire questo? La femmina fa la casa e la femmina la sfascia. Vuol dire che qui comando io perché la femmina sono io e tu obbedisci. arrivederci a tutti cari amici. Il nostro viaggio in Italia è terminato e auguro una buona Italia a tutti. Si può dire buona Italia? No eh?